Ehi, ciao, buona giornata! Io sono frate Stefano dei Servi di Maria. Ascoltiamo oggi il Vangelo insieme. Oggi è il 16 gennaio sabato Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare, e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui, ed egli insegnava loro. Passandovi, delevi il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scrivi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore Lode a te o Cristo Così anche oggi il Signore ci chiama, ci chiama a seguirlo e ci insegna anche che il carico dei nostri peccati non è una scusa per non seguirlo. Io sono venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. Ti auguro una buona giornata, prenditi cura di te. Pace e bene e Dio ti benedica.